C'è appensione in città per la scomparsa di Mario Donati, originario di Arezzo, scomparso dalla sua abitazione nel rione San Marciano, in pieno centro storico, dove si trovava con la moglie. Mario Donati ha 64 anni, non si hanno notizie di lui da due giorni, sarebbe uscito di casa nel primo pomeriggio di domenica facendo perdere le tracce di sé. Avrebbe problemi di memoria, assumerebbe dei farmaci, per questo c'è molta preoccupazione. La prefettura ha già fatto una riunione per coordinare le ricerche, dopo che la famiglia ha presentato regolare denuncia. La prefettura stessa ha diffuso foto e caratteristiche dell'uomo che al momento della scomparsa indossava abiti chiari, una camicia azzurro cielo, pantanoni neri e un caratteristico cappello di paglia. L'uomo è alto 1,85 m, capelli e baffi neri. La moglie ha spiegato che non porta con sé neanche il cellulare. Le ricerche sono state avviate comunque subito e sono tuttora in fase di svolgimento delle operazioni di ricerca, con il concorso di tutte le componenti del sistema integrato di intervento. Al momento non ci sarebbero state delle segnalazioni. Chiunque lo abbia visto può segnalarlo però al numero unico di emergenza 112. È un'estate complicata all'Aquila dal punto di vista delle persone scomparse nell'ultimo mese. Oltre al ragazzo sul Gran Sasso, poi purtroppo trovato morto, si sono interrotte da qualche giorno le ricerche di Marco Benzo, il pensionato romano scomparso da Rocca di Cambio, dove era in vacanza. Dopo un mese di ricerche senza esito, la prefettura nei giorni scorsi li ha interrotte, perché i metodi tradizionali non avevano dato riscontri. Sta proseguendo quindi basandosi solo sulle segnalazioni, che negli ultimi giorni però si sarebbero arenate. La famiglia non si dà per vinta, sta continuando con un volantinaggio massiccio per ritrovare l'uomo, che nonostante l'età era in buone condizioni di salute, a quanto pare pure un buon camminatore. Una situazione che comunque sta generando molta apprezzione nelle famiglie coinvolte, che sperano l'aiuto di tutta la città per ritrovare i propri cari.